E' più importante che stare con tuo padre. Hai bevuto. Dobbiamo fare una cosa. Cosa? Una cazzo di cosa, Matteo. Un favore agli amici, va bene? Che cosa stiamo cercando? Sto cercando un segno, Matteo. Ma che c'è? La ragazza? Non ho la ragazza, è un'amica. Come si chiama l'amica? Adele. E' illegale, no? Certo che è illegale, cazzo. Certo che è illegale. Ma mi servono i soldi per il biglietto. Che biglietto? Per Capo Verde. Perché cazzo devi bruciare un cadavere? Ma che cazzo ne so, Matteo? Ma che cazzo ne so? Mamma mia, quanto ti amo, Matteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.